Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Caterina! Caterina sforza! Lo so che sei lì! Ho qualcosa che forse rivuo indietro! Non ti manca nessun figlio? Anche Ezio Auditore! Che magnifica sorpresa! Immagino che siate i fratelli Orsi Ludovico E Checco Al vostro servizio Basta! Dove sono i miei figli? Lasciateli! Sicuro signora? Lo faremo volentieri in cambio di qualcosa in tuo possesso Una certa mappa E una certa mela, fratello Sì! E una certa mela, giusto? O devo sgozzare i tuoi figli da un orecchio all'altro? Bastardi! Credete di potermi minacciare? Non vi do niente! Volete i miei figli? Tenetevi lì! Posso benissimo farne degli altri Quando cambi idea saranno nel villaggio fuori dalla città Hai un'ora! No, Caterina Non posso chiederti di sacrificare i tuoi figli Nessuno sta sacrificando niente Vai e riportami, li Ezio Sì Hai la mia parola La mela deve restare nella cittadella Tenetela al sicuro Non posso chiederti di farlo Non posso chiederti di farlo Non posso chiederti di farlo Guarda quel colpo Un mercenario E vogliene Eccolo! Prendiamo! Miata! Un mercenario E porco no, e lo prenderò per essere il nostro uomo. Non se ne andrà così. Non lo vedo. Dov'è? Giù, subito! Non preoccuparti, lo prendiamo quel bastardo! Dovete prenderlo, subito! Sei morto, bastardo! Dove l'avrò visto? Ma che diavolo! Dove l'avrò visto? Fermati e combatti! Mercenari! Buon Dio! Ma che diavolo! Tutte qui devono questo dirmi! Illusi, non basteranno! Mia madre è una vecchia! Noi domi non siamo un uomo! Sembriamo del fai, ma gli occhi ingannano! Chiedete a mio padre! No! 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 Mi seguitelo, ragazzi! E se facerete un solo capire al mio fratellino, si scannerà e vi mangerà per colazione! Mi scommetto cinque fiorini che li taglio entrambe le orecchie finché è ancora vivo. Pensi di fuggire! Tutto è assurdo, sapete? Non potete sopravvivere, entro uno sarò a casa. Per cui in pratica stiamo perdendo tutti i tempi. Mi sto annoiando, non è che potete non fare qualcosa perché aspetto a temoriati? Cosa? Dov'è finito? Sì, così! Ottimo! Corre dritto verso la caserma! Là! Sì, è per morire! Qui le guad... Se che devono costruire! Illusi, non basterà niente! Mia madre è una bella! Noi da un forza non siamo agnellini! Sembrano dolci, ma gli occhi ingannano! Chiedete a mio padre! Grazie, messere, grazie! Ma c'è ancora mio fratello Ottaviano! È tenuto prigioniere Olfaro! Le uniche certezze che abbiamo sono miseria! Che mantello potrebbe essere? Non potrebbe essere un mantello! It's a roma! Dove ritrovi! No! Sì, anche se... E'? No! 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 Mamma, aiutami! Non voglio restare qui! Sì, armopolo! Andiamo, Caterina! Fatti vedere! La mela e la mappa, o ti storco il figlio! Devo fare la pipì! Di grazia, signore! Sto per farmela addosso! Lasciatemi andare, vi prego! Oh, per Dio! Chiudi il becco! Non rimarrà nulla di te da seppellire! Più veloci! Più veloci! Sta scappando! Smettila di fregnare! Dove ce li hai, i coglioni? Ti vuoi nascondere l'urido sorcio? Ho fame! Posso avere qualcosa da mangiare? Per favore, ho fame! E basta! Smettila! Mi fa venire il mal di testa! Questa è la tua ultima possibilità, Caterina! La mela ora! O gli rompo le gambe! Caterina è stata stolta a mandare te! Forse lo stolto sei tu, che muori per pochi spiccioli! Ne valeva la pena! Più di quel che credi! Il maestro avrà quello che cerca! Cavazzi a me! E allora... Muori con il tuo insensato orgoglio! Requiescati in pace! Grazie, messere! Grazie, messere! Grazie, messere! Grazie! Grazie.